C'è stata una rigidità unica da parte di Ingegnere Florio, dichiarando subito che lui aveva un disagio personale a sedersi con chi lo ha denunciato. Nel merito noi abbiamo chiesto di fare chiarezza sulle questioni che abbiamo posto, abbiamo fornito dati, elenchi di lavoratori, di persone che sono in assistenza, che non hanno più l'assistenza, abbiamo fornito un elenco di 150 nomi di persone che sono doveva essere la nostra sede e che non hanno avuto l'assistenza chiedendo perché, ma purtroppo non c'è stata nessuna risposta nel merito né sui numeri né sulle motivazioni. C'è stato un tentativo chiaro di scaricare sugli altri. Uno dicendo che lui ha subito e ha dovuto firmare per forza l'appalto che ha trovato alla cooperativa che gestisce il servizio, che quell'appalto era troppo oneroso e quindi secondo lui questo è uno dei motivi per cui si è sforato e poi ha detto che il comitato di valutazione, cioè dal medico di base ai medici dei distretti sono stati indulgenti, hanno dato di tutto di più anche a chi non aveva diritto e che lui doveva osservare i numeri e pertanto ha dovuto fare i conti con lo spreco che secondo lui c'è stato. Non c'è stata risposta su quando riprende e se riprende né c'è stata chiarezza sui dati, anzi ha trovato questa scappatoia a nostro avviso che rispetto al 1070 che lui ha dichiarato ai sindaci, ai 522 nostri, lui ha detto che il problema non è quello degli utenti, delle persone, ma il 1078 è riferito al numero degli interventi che quindi sono come se ha confermato che non sono 1070, sono 500, però hanno avuto 3 interventi ciascuno, 2 interventi ciascuno, pertanto al momento da quello che abbiamo capito comunque restano fuori più di 1000 persone che non hanno l'assistenza. Quindi riteniamo che sia un atteggiamento scorretto, che non fa chiarezza e anche rispetto alla denuncia fatta dal dottor Rosato che questa situazione sta ingolfando, sta creando ancora più problemi all'ospedale Moscati, cose che noi avevamo già detto e lui ha risposto che il futuro sarà l'assistenza domiciliare, però adesso queste sono le direttive della regione, i soldi non ci sono e pertanto lui ha detto che fornirà i dati precisi alla magistratura qualora la magistratura lo chiama. Dico anche che personalmente sono stato confocato per domani mattina dalla Procura della Repubblica rispetto all'esposto che abbiamo presentato e questo è un fatto positivo, penso che ce ne sia proprio bisogno anche alla luce di questo confronto, non c'è chiarezza, io penso che l'intervento della magistratura possa aiutarci a fare chiarezza ma soprattutto non si può giocare sulla pelle di queste persone che soffrono, solo per ricordarlo a me stesso, parlando di malati terminali, di persone allettate, di morbo di Parkinson, di Alzheimer, cioè di persone che già sono state sfortunate nella vita e che sono state sfortunate perché ad Avellino hanno incontrato un manager come l'ingegnere Florio.